Un appuntamento adesso torna a Quartieri di Vita, il festival di formazione e teatro sociale della Fondazione Campania dei Festival, ideato dal direttore artistico Ruggero Cappuccio. Anche quest'anno alcuni dei principali gruppi teatrali che operano nelle periferie del territorio campano avranno la possibilità di confrontare le loro esperienze con registi internazionali impegnati da sempre in luoghi e contesti di marginalità. Workshop dal 21 novembre e prove aperte al pubblico dal 30 novembre al 3 dicembre.